Dottor Aldo Giovannella, ambasciatore italiano del TED Airshell Wildlife Trust di Nairobi e fondatore 5 anni fa del Penguin Life Project, progetto tutto italiano a favore della difesa dell'ambiente e della recupero, riabilitazione e rintroduzione in natura degli elefanti orfani appunto a causa del laborio. Oggi al Vegan Fest, qui al SANA di Bologna, siamo stati ospiti per il secondo anno, una platea importantissima, un momento emozionale dove abbiamo presentato un documentario, abbiamo potuto portarli per mano verso il mondo affascinante e emozionante degli elefanti orfani del laborio. Spengo i project, comunica e diffonde a livello nazionale l'informazione e cerca di portare quella che è l'educazione all'ambiente e il rispetto della vita. Abbiamo anche potuto oggi approfondire il viaggio pengo che facciamo ogni anno e siamo felici, sono molto felice come presidente di questo progetto di aver potuto comunicare che il prossimo anno il viaggio pengo sarà esclusivamente dedicato a tutto il popolo dei vegani e quindi apriamo il viaggio al mondo vegano. Il nostro progetto è un progetto nazionale ma che coinvolge anche tutto l'interesse verso queste anime che lavorano in Kenya, quindi verso i ranger, verso l'unità cinofile antibraconaggio e verso i medici veterinari che affrontano ogni giorno la realtà della problematica della guerra contro gli animali. Raccogliamo quindi materiale anche per loro. www.pengolaiproject.it è il nostro sito, pagina Facebook, quando volete, quando potete, quando ve lo sentite, contattateci e venite con noi a conoscerevi e a emozionarsi verso il mondo di queste fantastiche creature. Evviva VeganFest!